Allora, intanto guardate il tavolo, se vi piace, se non vi piace, io ve l'ho cercato di mettere più onesto possibile fra tutti. Se non vi garba ve lo cambiate tutto, dall'A alla Z, non è un problema. Tirate un D6 a testa per decidere da che parte rischierate. C'è, spero, spero. Vai, due. Io ho fatto sei. Hai vinto a te, scegli il tavolo. Ci asceggo la parte, praticamente. Sì. Allora, intanto chi ha vinto il deployment fa il primo turno, quindi sarà il rally. Però dovete, tiro io, due dadi da tre. Due di tre che sarebbe praticamente... Due di sei. Due di sei diviso due. Allora, tre e due. Cinque. Dovete mettere cinque obiettivi partendo dal rally. Ovviamente gli obiettivi smettano dal centro, eh. Adesso lo piazzo qua. Ok, poi quando lo piazzi PCCL così lo blocchi tanto lì rimangono. Poi si possono muovere, però per ora lasciamoli fermi. Te in mano metti... metti un altro. Ok. Allora, ora il primo a muove serrarelle, vi descrivo come funziona. Allora, alla fine di ogni round, quindi non quando ci andate sopra, ma alla fine del round, l'unità che sono a tre dal marker e non sono... E i nemici non ci sono e non sono stunnate, perché se sono wavering, che vuol dire stunnate, non possono conquistare. All'inizio, scusate, alla fine di ogni round, i giocatori prendono un punto per ogni marker, ok? Che hanno conquistato poi tanto il colore lo cambio io, non vi preoccupate. Prendete un punto per ogni marker preso, più un punto si ha conquistato, più un marker dell'avversario, ok? In più prendete un punto se una vostra unità non stunnata si trova nella zona di schieramento dell'avversario, quindi un punto, è uguale se distruggete un'unità avversaria, almeno una. Quindi questi punti si possono fare una volta sola, eh? Non è che entri, esci, entri, esci. La prima volta che entri nella zona di schieramento avversaria fai un punto, la prima unità che gli distruggi fai un altro punto, quelli ve li conto io. Alla fine del quarto round vince chi ha più punti. Ora si arriva alla figata di questa mappa, che secondo me, fra tutte quelle di ora, è la più bellina. Che è capitata da giocare. All'inizio di ogni round, un giocatore random, oppure si fanno spareggio con un dado. Facciamo dadi, facciamo, sì. Un giocatore random può prendere un punto, un punto lo sai, sono i punti di interesse, gli obiettivi, no? Scegli un punto sulla mappa, con un tiro di 1 o 3, lo può spostare di 12 in qualsiasi direzione. Quindi lo può spostare di 12 in qualsiasi direzione. Ovviamente al momento che voi siete partiti con la battaglia e tutto, però vanno spostati, li potete spostare anche nelle zone di schieramento, ok? Quindi ve lo potete mettere anche nella vostra zona di schieramento. Perché sono inizialmente, però poi dopo ovviamente possono anche essere spostati. Quindi, se invece viene fuori un 4+, rimane lì. Tutte le unità entro 6 pollici da un qualsiasi punto guadagnano rigenerazione. Esatto. Quando un'unità appunto è attivata, ma un'unità è anche un modello singolo, anche il tuo generale, anche se uno è un'unità, conta con un'unità. Cioè quindi non nel nuovo turno, ma nel turno di quell'unità. Quando viene attivata. Quando tocca a te, che dici, vai muovo questo, capito? Ok, ok, ok. Quando un'unità viene attivata, viene curata di 3 diferite, oppure di 3 modelli. Quindi se è uno con tanti punti ferita, gli fa recuperare i punti ferita. Se è un'unità, i morti torneranno in vita. Quindi ripigli le miniature che ha levato, non le cancellate e le rimettete, ok? Poi, il paradiso dei mostri. Ogni volta che un nemico con ferite 6, ogni volta che viene ucciso, ok, mettetelo in riserva, lo levate dal tavolo. All'inizio di ogni round, quindi devi aspettare che inizierà un successivo, i giocatori tirano un dado. Con un risultato di 4 più, quel modello torna in vita, ok, a piene ferite, e lo potete posizionare ovunque, no? Però deve essere entro 6 pollici dal bordo del tavolo, ok? E almeno 3 pollici lontani da una qualsiasi unità nemica. Tanto poi ve lo ridico mentre... Per ora non c'è niente di importante. Per ora se prendete punti, ricordatevi che quando li prendete, guadagnate punti. Per ogni punto preso e se ce n'è di più dell'altro. E il conto si fa ovviamente a fine round. E ricordatevi anche che quando siete vicini a un punto qualsiasi, anche non vostro, quindi un punto qualsiasi, prendete rigenerazione. E ricordatevi che quando il punto è attivato, conquistato, recuperate ferite. Basta. È molto, è molto semplice. Tirate, tirate ora un dado da 6. Chi fa il risultato più alto lo sceglie e sposta. Ok. Tirateli sempre se è possibile nella dice tower, almeno non le rincorro anch'io con le riprese. Sai che li odio. Tira i tuoi. Maldi. Di cosa si sta parlando? Dello spareggio per levare i punti, per spostare i punti. Ho fatto 4. Ok. Ecco. Hai fatto 4. Io ho fatto 3, quindi come fa lui. Ok, quindi devi prendere un punto. Ha vinto a mano, no? A regola. Sì, prima dovremmo scherare comunque. Scherate. Effettivamente. Quindi da chi comincia? Fa vedere. Io ho vinto. Ah, ok. Quindi comincio io. Oh boy. Sì. Salto. Sì. Il cane. Questi. Sì, no, deve scherare. Cioè, adesso li ha scherati, deve muovere quello lì di 12, si vuole muoverli, prima di partire il tour. Ah, sì, lo scout. Ah, quel boschetto, quei due boschetti che ci avete alati, ok? Questi due boschetti che ci avete alati, se c'entrate, copertura totale. Se entri dentro? Sì. Se c'entrate, copertura totale, e quindi, non vuol dire che non vi possono tirare, però comunque chi ci tira, ha un malus. Cioè, invece di mettersi lì a scritta per Red Dead, va a lavorare a questo. Che testa c'hai? A ristorante. Vabbè, potrei farlo per quelli là, e poi, Massimo, dopo si rivede, dai, facciamo così. Vediamo se è giusto dal di qua. Nove, un po' più in qua. Sì, va bene. Ok. Ok. Allora. Tocca a me. Anza di sei. Fa vedere. Ce vado qua. Tuo mumba arriva fin qua. Mi tieni in questo punto per cortesia, Corey? Sì. Grazie. Io adesso arrivo fin qua. Vabbè, che poi aspetta, vediamo lui. 24, arrivo fin qua. Quindi io posso spostarli. Lui arriva fin là, un centimetro. Aspettarli, li lascio dove li ho presi. Che io voglio tenere il punto qua. Allora. Ah, devo capire dove metterla, che sennò. 24. Ora guardo, Burgo, guardo subito. Che lo pigli da quello più distante? Eh, perché così riesco a prendere anche l'ultimo. Ok. E gli sparo a loro con le snake. Quanto arrivano a loro? 24? 24. 24, sì, sì, li pigli tutti. Li pigli tutti. Ok. E li vedi con tutti. Vai. Tira, se è possibile, nella Dice Tower. Allora. Ah, mi piace la Dice Tower. Mannaggia, per seguirlo. Al 3 o più, quindi. Questo no. Questo no. Questo no. No, in realtà no. No, no, no. Non è il 3 o più, perché loro hanno due coperture. Da lontano e da vicino. Quindi loro hanno un 5 o più. Quindi io ho beccato 6, che fa 3 danni. Più 1, 1 fa 5 danni. Quali coperture hanno, scusa? E difendono 5, perché loro hanno la smoke, se non sbaglio, e meno una colpire generale. Meno una colpire a distanza. C'è la smoke che... Quindi colpisce al 5. Ah, perché c'è la smoke che è difficile prenderti. Ok. Quindi gli faccio 5. E la copertura, scusa, qual è? La copertura è stealth. Ah, stealth. Ok, perfetto. Eh, io ho messo cosi, non c'è. Comunque ho fatto 5. Perché 6 vale per 3, 5 e 5 sono 5 tiri. Sì, 5 e 5, esatto. Quindi quanti do? 5. Io ti ho 5 danni difeso. 5 al 5. E quanto c'hanno d'armature? Perché 6. Quanto sono belle le... La mia? Ah, ma queste non sono la mia, eh? Queste qui sono... Naga. La mia sono tipo vampire. 1 e... 4 fuori. 4 morti. Hai perso? Fai subito il check di morale. Ok. Con la disciplina sua, con la quality. Al 4. Se lo fallisci, va in rotta e... E' fottuto. Scout. Ok, riuscito. Ti faccio fuoco, la copertura simbicale. Sì, sì, ti può caricare lo stesso. Io te l'ho detto, l'unica cosa, se ora attivi lui, attivandolo, intanto lo curi. Subito. E poi li puoi anche spostare. Ok. Sì, attiva. Eh, no, no, 4. Ok, quindi 2 riporta l'invita e ce li mette accanto. A questo punto... Ok. Stimando, non c'è più. Allora, quindi... Ah, aspetta. Faccio... Tiro con gli archi. Dove? Su... I bestioni. Ok. Sì, su bestioni. Quindi, 3 attacchi... All... 4. Ehm, 1. Ok. Guarda, tutto cazzo lo tira, che vola di gioco. Sì, è una ferita. Ti guardo, aspetta che cancello sta roba. Sì, è una ferita. E mi sembra di sì, perché hanno 5 loro. Sì. Eee, 5, vai, una ferita. Eee, te li metto io, vai, vai. State a fare le vostre mosse. Ok. E anche questa partita, lo scout ha tirato la pregio miracolosa. Sì, 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 sì. Faccio attaccare da loro, no. Uso wizard su di loro. Ok. Tiro un dado. Eee, vedo se faccio 4 hit. Eee, quanto è la difficoltà dell'incantesimo? 4. Ok, quindi devi fare 4. Sì! 4 hit, quindi. 4 colpi normali. Ok. Tutti entrati. Tutti. Tutti morti. Ok. Eee, immediatamente guadagna un punto. Rally, glielo metto io. Perché ha distrutto l'unità. Un punto. E queste non possono tornare in vita, eh? No. Tornano in vita solo quelle che hanno ancora, eh? O quelle ferite? Tocca a te. Allora. Allora. E tiro su di loro. Con... Ok. Con il bombardamento. Quindi... C'ha Blast 3. E con un diretto, quindi colpiscono 4. Al 4? Sì, almeno 1. Si, perché se mi sono mosso. Stasera è merda, Manu, eh? Va. Va bene. Quindi... Fammi pensare. Fammi pensare. L'impatto è tutto. L'impatto è tutto. Intanto lui non è in diretto, quindi lo piazzo qua. Ok. Vai. Ok. Ok. Quindi per la cronaca, visto che non può passare sulle sonità, non ti potrebbe caricare con lo shrine, capito? Sì, sì. In caso, quello no. Dagli consiglio. No, ma c'è anche a te, eh. No, no, ma... No, ma c'ero già... C'avevo già pensato. Sì, immagino. Con so che conosci il gioco. Però posso fare altre cose. Sì, sì. Infatti... Infatti, adesso che finisci i sei, faccio io di sempre. Ok. Metto io, ci metto io, vai via questa cosa. Ma come? Non mi ero preparati. Non ti permette mai più. Qui sta a martaolo di Nicola, oh. Mi scrazio. Certo che gli scout sull'hotel li potete mettere e fanno ca... Ma cosa servono di uomo? Eh, capito. È una minchia. Eh, sì. Perché c'evo tante altre scelte. C'è gli scaven, c'hanno tutti ambush o ne hai messo uno con ambush? No, vabbè, c'hanno tutti ambush. Eh, insomma. E dai, vediamo che gli sartavo per aria, varcosa, se mettevi una bella truppa da ambush. Ok. Eh, a questo punto ho carico. Un po' di due. Dio boh. L'ho messa male, vaffanculo, l'ho messa male. Vedi, ho sbagliato. Mettilo intro la sua carica, vabbè, comunque. Dimmi se ci casco sopra o meno. No, no, non ci caschi sopra. Allora, poi ricordati che lui ti può contraattaccare, ma tanto non ve ne frega nessuno dei due della stanchezza, perché tu non finisce. Eh, sì. Allora, quindi c'ho AP più 1 su tutti gli attacchi. Quindi fai 6 attacchi da P2 e 6 attacchi con Rending. Con Rending. Con AP 1 però anche. Prima fai gli attacchi di Rending. 6 attacchi ad AP 1 più Rending. Poi te li conto io. Quindi. Quindi uno passa. Allora, 4. Quindi 4 di cui 1 AP-3. No, aspetta, perché 4? Perché al 3 o più capisce. No, capisce al 4 o più lui. 4? È vero, c'ha armatura a 3, porca troia. È vero, ha invertito a 4. No, c'ha armatura a 4 lui. Ah, sì, ha un defense, quindi fa 3. Ok. Quindi uno passa e due devo difenderli. Alla P1, sì. Devo difendere al 4, perché ha difesa anche lui. E quanto c'ha lui di difesa? Perché conta lì anche la P1, eh? 5 perché c'ha anche la P1. Passa. Che cazzo l'ha tirata. Tutte e due? Sì. Ah, passano. Ok, quindi ha preso 3 ferite per ora. No, no, aspetta, ammettigliere. Tanto c'è da fare il conto dopo tutto insieme. 3 ferite ha preso. Ora fai quelle di lui. Poi ho 6 colpi a P2. Ok. 1, 2, 3, 4. 4. Ad a P2. Quindi difendo a 6. Sì. 4 al 6. Che po'. Eh, vedi, ho sbagliato. Ho fatto un errore. Niente. Eh, no, 1 l'hai parato. Però 3 sono 3. Eh, 1. Sono 3, quindi... Ah, 3 più 3 è 6. Aspetta un attimino. Sei vicino a un punto? No. Eh, sei vicino a un punto, se no ti dava il punto quello spostato o no? Ti dava rigenerazione? No, niente. Ok. Sennò c'è rigenerazione. Eh, boh. Vedi, ho dovuto metterli giù subito così, senza poterli spostare leggermente. Io pensavo, avevo calcolato che fosse lontano di 16. No, ma se ti hai bisogno, dimmelo a me che ti ci metto io il punto e te lo continuo a mettere. Così fai le varie strade. Perché al momento che lo posi è posato. Certo. Quello lì, questi sono feriti. Allora, ora prendi tutto e si fa il calcolo dei punti. Manu prende un punto. Più uno del champion. No, che ha ucciso il tuo. No, 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 ma a parte quello. Ora sto contando le unità distrutte. Poi un punto qui, prende un punto qui e un punto di qua. Quindi ne prendi due e va a tre. Ora tocca al rally che ne tiene. Uno qui, quello centrale. Uno qui e uno qui. Quindi sono tre punti per rally più un altro quattro. Tre punti, quattro punti, rally va a cinque. Perché comunque a fine turno è quello che ha più punti. Quindi prende un punto in più. Nessuno ha sconfinato nell'area nemica. Ora ritirate il dado per vedere un random player chi sarà. Perché cosa? Per spostare l'oggetto. Sei. Due. Allora, Manu sceglie un punto e rally lo risposta. Dove gli pare? Gli pare mette anche lo stesso di prima, eh? Beh, devo... Devo rischiare il dado. Sì, sì, devi tirare il dado. Devo ritirare il dado. Nel caso, poi... Tira il dado. Così si vede. Ah, ok. No, intanto però fai una cosa, fermo. Prima di tirar il dado. Intanto si riescono al punto, no? Qual è il punto? Questo qui delle... Ok. Delle... Delle noiga. Sì. Ok, il rally lo devi spostare. Sì, tanto loro non devono rigenerare nulla. Quindi starà nove, giusto? Sì. Vabbè, ti metto lì, poi... Non lo devi spostare. Proprio deve essere di 12, eh? Spostato. Non sotto i 12. No, di nove. No, di 12 lo devi spostare. Di 12, e deve essere entro nove da un altro punto. No, massimo di 12. Fino. Cioè, non è che devo spostarlo di 12. C'è scritto fino a... Vai up to... Vabbè, spostalo leggermente. Allora, fammi cambiare il colore un attimino. Vabbè, sì. Chissà avvicina a questo qui entro 6, mi sembra. Sì. Chissà avvicina a questo di entro 6, ma ci deve rimanere entro 6, prendere generazione. Ah boia, me ne ho scordato. Porca puttana. Vabbè, al momento lo shrine c'ha rigenerazione, eh? Ah sì, ok. Se te lo disattacca. Non ce lo scordare. Ok, chi era? Che aveva vinto Rally, il primo. Io. Cioè, chi ha finito prima la mossa Manu, tocca Rally. Allora... Ah no, devo tirare prima il dado per vedere se ritorna in vita il mio campione. Sì, è vero. Sì, cazzo. Parca troia, lei è vero. No, no. 4 o più. Ora, 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 12, quindi 12 arrivano qua. Ah, ok, l'ha fatta in marcia. Ok. Perfetto. Carico ovviamente, non ne puoi dichiarare. No, giustamente non posso dichiarare i cari. Sono brutti. Ah, eh, devo... Ah beh, niente, no, no, scusa. Quasi. No, no, nulla, nulla, nulla. Ok. Questo... Vale, la prossima partita si tia. Non sono entristretto al punto, no? Non sento treno. Tanto se... Ti metto al cosino, non c'è comunque dentro 3. Ok, loro che sono lì... Prima di fare questo movimento, lo dico prima di appoggiarlo, ho detto prima di appoggiarlo, faccio la cura da questo punto qua, perché loro potrebbero curarsi. Sì, sì, tira un d3. Vabbè... No, no, fermo, non tira, tanto la ripiglia la ferita, perché il minimo è uno. Ok, è a posto. Mi piace la comoda un'intervolare. Sì, 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 c'hanno indiretto. Allora... La medusa che è allo shrine? No, no, è... Le snake, scusa. Centro 20. C'ho almeno uno. Faccio sei, conta tre colpi, perché... Sei. Quindi un colpo a testa, giusto? Ah no, devo difendermi, giusto. Prima devo difendermi. E fa blast 3. Ma blast 3 però le dividi le ferite, eh? Cioè, t'ha fatto tre colpi con blast 3? Fa sempre uno a ognuno, comunque. Quel discorso... Sì, sì, non lo so, però aspetta, ha fatto tre colpi a blast 3 o un colpo a blast 3? No. Un colpo a blast 3. Un colpo, ma al 6 conta... come se faccio tre attacchi. Quattro... Difende contro. No, con 4. Ma non hai AP, non hai niente? No. Hai AP o no? No, no. Ok, però devi tirare tre dadi, perché ti ha fatto tre attacchi, quindi ne hai difeso uno, ora devi difendere gli altri due. Ma come tre? Ma... Vabbè. Il colpo viene moltiplicato per tre, come se ti avessi fatto più attacchi, poison. Boh, io non lo... Io... Le mie non è che quando fanno... Oh, il colpo viene moltiplicato per tre. Ok, va bene, va bene. Boh, metto due difese. Ok, l'hai difesi tutti? No, uno è andato. Ah, ok. Quindi prendi un blast 3, una ferita a ciascuno. Quindi hanno... Una ferita a testa, ora. Ok. Vai. Allora, vabbè, prima faccio aura di paura su questo di qua. E... Deve fare un tiro morale. Devi fare il tiro magia? No, devi fare il tiro morale. Se lo fallisce, prende tre hit. Ma al tre... Perché c'ho più uno al tiro di morale. Non so se il suo danno modificato. Ho fatto scinti. Vabbè, non ho perscinti. Sì. Ehm... Niente, rimango fermo con questo. Ok. Allora... Allora... Con loro invece corro... Faccio... 8... 8... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 10... Non voglio. Si è scoppiati. Explosio. Per... Perché c'ho il commuto come penetrato? Rubi punti! Perché non si è bloccato. Capito, è colpa mia. Allora Fine round facciamo un attimo la conta dei punti Relle ce n'ha Allora Da qui ne ha preso uno Qui ha preso quello centrale Con questo e qui ne ha preso un altro Quindi sono tre e ce n'ha più di te Quindi sono altri quattro punti E va a nove Ti ti sei spostato Perché c'è soltanto questo qui No No Sono comunque conquistati Finch'è non lo piglia qualcun altro Come? Finch'è non lo piglia qualcun altro E rimane sotto il mio controllo Ok quindi te ce n'hai due Ok due Perché ste no Non si può muovi Ce n'hai tre Più due Cinque Nove e cinque Ok Leviamo tutti i simbolini Ok Quindi lui ne prende uno Io ne prendo quattro Ok Quindi si fa il tiro di nuovo Sì rifatto il tiro La luba Ah Tiro la luba Quattro 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 anche te? Quattro Ci fa Cinque Spareggiate Cinque 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 Anche lui Ma avete rotto un cazzo Ritirazzo Quattro Quattro Che cazzo è successo al tavolo? Dove cazzo è tutto Non ho ancora fatto save finora Aspetta No eh Riseleziono questo debista Terri di Mordor Quale? Quello Quello che c'hanno sotto loro Da duu Tanto Stai a vedere Sta fermo Non è Non conviene Cioè Ora Dovete fare un tiro Rally Al 4 o più Li torner generale No Tocca a Rally Attivo loro E provo a ricurarle Due Una ferita Quindi una va via Sempre a metà viene contato Giusto? Sì 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 Rouson di Fer Cioè 1 e 2 sarebbe 1 3 4 2 5 6 3 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 Lo vedo la coda, vedo la testa Con questo qui, vabbè, ma questo qui è tutto coperto Lo vedi, cioè lo vedi praticamente a sprazzi Con questa lo vedi benissimo E con questa lo vedi perfettamente Quindi con queste due qui, quelle due ferite Praticamente lo vedi bene Puoi tirare tranquillamente con tutti gli attacchi Quindi sei attacchi con due Sì, sei attacchi c'ha Tre ciascuno Quindi Tre, quattro, cinque, sei E c'ha poison o no? C'ha poison Quindi sono sei attacchi Giusto? Uno, due, tre e tre sei Sì, sei attacchi Sei attacchi se non erro senza Senza ap Una bella manetta Eh ma Io di tutti i l'arcieri che ho visto finora Quelle naga lì sono le più forti Allora Allora Due ferite Due ferite Questo qui E questo qui ma Ah Le sneak assist Tanto quello vedi a prescindere Ok Quindi al quattro più perché ti sei mosso? Al quattro più Sì Come si Un vula te lo metto Colpito un colpo a blast tre Blast tre E puoi difenderlo ovviamente Però strano Cioè avere blast senza ap E' proprio fa cagare Di abono Eh Sarebbe stato più comodo Averle su tutte e tre Ma La difesa La difesa Non Poi non Non mi danno No però c'è Un blast senza Almeno il mio trabucco Ti dà vp2 Porca troia Non ce posso fare nulla E faccio 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 Che sto fermo con loro Allora Ok La basetta ci passa lì O è come quell'altro Coso che non ci passa Sì Al singolo ci passa Perché sono quelli piccolini Sì Se fosse una creatura grossa No dovete far giro Dall'altra parte Questo no E nemmeno il tuo Allora Corro qui dentro Ok Ok Tocca a Rally Sarebbe bene Vedere Tornar su generale Sarebbe una figata Tanto al quarto turno Rientra per forza No te o le ganta Ah questo siamo al terzo Il prossimo è l'ultimo Allora Faccio la sua Cosa Del morale E qui ce l'aveva No 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 Sì è appassato Faccio la sua roba del morale E colpisco Sia tutto e due loro Sì Praticamente devi fare Due tiri morale Uno con i guerrieri E uno con Con il mostrone E se li falliscono Sono tra colpi Per loro Intanto faccio Intanto faccio C'è qualche bonus C'è qualche bonus No al generale Non dà Nelle vicinanze Delle truppe No Allora Tanto gli scaven Perché era No aspetta Perché era sto tiro Non l'hai dichiarato Eh buonanotte Non l'hai dichiarato Cambia foto No cambia perché Poteva venire di meno Devi dichiararlo prima Ho capito Ma non sai Cos'è Cos'è Io lo do Io lo do È uguale Eh no Perché questo qua Carica a me Questo quanto ha Quattro ferite L'altro cinque Ho capito Eh lo devi dichiarare L'ha dichiarato Vabbè Lo devo rilanciare Quindi Decidere Lo hai dichiarato Questa volta sì Con Mario Era un'altra cosa Questa volta Quindi sì Allora ritiralo No ora Con chi però Dichiaralo Maledetto È i warrior Oh Allora Warrior l'hanno fallito Quindi sono Un d3 Cioè no Sono tre hit Non di tre Quindi tu Farei tre hit Deve proteggere Tre hit Nerte Nerte Tre morti Sì Vanno di un Uno Due Te le metto io Fuori dal campo Così Se dovessero tornare Ce l'hai già qui Ok Eh per ora Con il generale Devi far il cerchio Esatto Quindi il bonus Lo piglio O no Da testa di morale C'è più uno Niente Sì Come ha disso Scemo Quindi Pari al 3 Sì S'è sentito offeso Mario No ma non per quello Era perché La sua La sua situazione La sua situazione Ci stava Perché l'avevo fatto Prima io Poi l'aveva fatto Ci stava Che lo facesse anche lui Non nel senso Che lui Scimbo Che Questo Ok Quindi questo qua È a Un 6 Giusto Sei felice Sì Ho fatto Ok No aspetta 5 3 più 2 5 Ah ok Allora Stata Finito Ah e non lo muovi Rimane lì No Sì l'ho già mosso Di quello che devo muovere Quindi questo sì Ah no manca il battle master Sì sì Non c'è Allora Se fa di così Un po' me lo vanno Va Eh C'è arrivata anche la mente Drift Drift Ok Un test Ok fine del round Si fa il conto dei punti Un punto Rally va a 10 Però Manu ne fa uno in più Perché in questo turno C'ha più punti di rally Quindi siamo un 10 a 8 Per ora In vantaggio di rally Eh Leviamo i simbolini Ve li tolgo io Prima a muoversi il rally E siamo al quarto round Per spostare Eh Sì Facciamo prima quella cosa Sì Poi rischiare E poi rischiare il tuo generale Eh Manu ha fatto uno Uno Ritirato Una volta Una volta Che il uno Prego Vai Scegli il punto E lui lo sposta Sì No Poi devo ritirare Allora seleziono questo Ok Vai ritira Così se proprio lo sposta Il problema non ne ho No rimane lì Sì Niente Rimane lì Non è più il punto di rigenerazione Ricordiamocela Ora il punto di rigenerazione è questo Fai rientrare il tuo generale rally Sì sì Dove è il confine qua Qui Agli alberi Agli alberi Agli alberi Sì agli alberi Tieni punto per favore Comunque ci arriva Sì vabbè Quindi dal di qua Io lo appoggio Poi faccio il segno Quanto manca Perché posso mettere A sei Sì Deve stare a sei Questo è il bordo E poi faccio Ok Continuo sognando Ok Ok E ovviamente È un'unità che può muovere Sì sì Tocca a me qui Giusto Chi hai Vai attacco lui Ok Allora Dove attacchi Dove attacchi Ci hanno poison Alla faccia Ragazzi Allora C'è un sei Quindi Beccano al tre Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Più tre Dieci colpi Dieci colpi Che devi difendere al tre Ok Boia stai C'è rivisto Un mostro Ci entreranno Tutti dentro La testa Prova Tutti al più cascano Tanto comunque Non li muovete Lasciateci il dado sopra Nel caso Cinque Un Due Tre Quattro Cinque Cinque Uff 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 Vai a mia Anzi Sarai Il morto? C'è C'era Cinque Ciò va Cinque Ok È andato fuori Vai Tocca A te Fermi qui In mezzo Contestare Questo L'altro Contesto Tutte Due No Ci sono Tre Da quell'altro Punto No Non ci sei Tre O li metti De Girate a Stronzi Ma È Così A parallelepipedo Cazzo è Così Questo Questo ok Quell'altro Questo ok Quell'altro No Quell'altro Dovessi stampare Più Un qua Piuttosto che Lasciarli a Prendere schiaffi Far conto che Non l'abbiamo Ok Tocca a te Con le altre due Ah Sono anche Oltre la linea Vorrei sottolineare Sì Quindi Già quello Un punto A parte L'avevo preso anch'io Però Al punto Del Di prima Sì Questo qua Quindi era Era a nove Vabbè Vabbè Ve lo metto subito È alla fine del turno O al momento Alla fine Alla fine In caso Vabbè Tanto l'hai vinta Sei Sono stanco Quest'ora Non faccio più Calcoli bene No Vinta sei Perché Anche volendo C'hai Niente Vabbè Uso Medusa Shine È il suo potere Tanto per Su questi qua Gli faccio Dai Facciamo il tiro morale Di quelli lì Fallito Tre colpi Quindi Un morto Quanti sono Un livelli ripartati Un tre Quattro Cinque Ah no Sono sei Sono sei Sì Ce n'è uno rigirato Sto via Lei dentro Non può beccare Con gli archi Vero Chi Eh no Questa qua In qualche modo Ce l'ha in diretto No No Però posso muoverla Però sì Posso muoverla Puoi muoverla Sì Puoi muoverla E tirare Sì sì Tanto questo qua Un punto conteso Anche se mi sposto Non cambia un cazzo Ah no beh Cazzo Lo prende lui Lo prende lui Quindi devo stare a tre giusti Tre giusti No Non ci arrivi No Non ci arrivi Eh vabbè Volevo portarla avanti Niente Tocca ai cani Cani cazzo Niente Ok Ti fa incontrare Uno Due Tre Tre Quattro Si attacchi A P1 Con il rending A tre No ma tanto Ne tiene anche più di te Quindi anche un altro punto Che si prende Quindi Sì sì No ma dico Ti ca in mano A tirare su dei rati Con Con la medusa Ok Allora Fine del quarto turno Si vince Appunti Tanto per far conto Manu Ce l'hai Uno O nemmeno uno No perché è conteso Questo Questo qua Quello rosso Manu ce ne è uno Vai a dieci Allora Rell intanto T'ha preso la base Quindi va a undici Ne prende uno in più Perché c'ha più punti E poi quanti punti c'ha lui Eh Tre Tre Quindi va Ha vinto di cinque Quindici a dieci Eh Bissi Bella partita No bella partita davvero Bella partita Bella partita davvero Questa mega Madonna ma hai fatto una paura Con quel poison Io non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Ho detto me li fumo Mi l'ho fatto schifo Ragazzi a domani Notte ragazzi Notte Grazie a tutti Grazie a tutti